Siamo con Gabriele Lunetta, attaccante della Gionerminio, oggi è arrivata la prima vittoria stagionale contro la San Benedettese, una squadra che aveva fatto molto bene nel campionato scorso, ma che quest'anno è partita male, però a voi serviva questa vittoria per dare un po' di morale? Sì, sicuramente i tre punti sono fondamentali per noi, hanno fatto una prestazione di carattere importante, quindi siamo contenti tutti. Forse gli ultimi venti minuti ci sono abbastanza e troppo, ma comunque l'avversario è un avversario importante, adesso al di là dei punti che ci hanno costato di carattere, sicuramente con la carattura di squadra sono una squadra molto importante, e quindi sono tre punti molto importanti per noi, sia a livello di classifica, ma soprattutto all'interno di morale, che dopo le due sconfitte consecutive di domenica, ci serviva proprio per ripartire. Ci è mancato poco che si andava anche a te, quindi appuntamento rimandato, diciamo. Sì, diciamo che ci sono arrivato vicino oggi, però... E mi butto un faglio, fai a prendere il basso più bello. Sì, sono contento della vittoria, poi sicuramente c'è qualche dettaglio da animare, da migliorare, però... Ecco, adesso abbiamo un'altra partita in casa con Rimini, una squadra che sembrava fatta, allestita per così, la Presidente invece sta vincendo in pratica con un squadra impensabile, come si pensava. Quindi sono un'altra partita combattuta. Ma questo girone qua l'ho già fatto per due anni consecutivi, questo è il terzo anno che lo faccio, è un girone molto livellato, non esiste una squadra di terrazzo, quindi mi butto con la Cristina, se non sbaglio, la prima di un campionato, che è una squadra importante alla fine, quindi puoi vincere e puoi perdere con chiunque questo giro. Mi sono andato a perdere con l'ingolese, che era comunque una retro-mossa. Abbiamo vinto oggi con la Salle Nettese, che era l'anno scorso di grado a seconda, e quindi il terzo, scusate, però comunque in questo genere qua devi andarci con carattere tutte le partite, concentrato, quindi rispondiamo davvero la partita. Va bene, grazie mille. Grazie. Ciao.